Musica Behm Behm Svegliati amico Fratello Dai non può finire così Ma che è Apollo Creed Comunque non credo che sia Cioè è solo svenuto Ti spacco Frost Mi è capito un cacchio Bello ti apro Cosa? Subito? Preparati gelatino Frostmaker No lo spacchiamo Ma certo, tutti vogliono questo incontro Come no? Ehi faccia da pistacchio Ah sta arrivando Frank Buonanotte amico Ti ho appena messo un cellulare Che sta registrando le cacate che dici Comunque lui ha paura di far andare Andre Contro Frost Franco Mi padre ti lascia andare per mettere Andre Bishop Non so cosa ti parli Lei lo sa che lo avete fregato Lo sa che avete fregato Andre L'avete buttato in prigione Come non sa niente Don't fuck with me McQueen Nobody can prove anything It's your word against the next con We're fine I Still don't like her sniffing around Excuse me Ha 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 in faccia glielo fa Ho forgot my phone If I'm going down for the Bishop job You're going with me I believe Andre Bishop has something you want Megan You can't do this Megan Megan L'ha amazzata I have to admit I did not want this fight to happen Even though both fighters wanted it Even though the public wanted it And even though I would have made A ridiculous amount from it I did not want this fight to happen Because I did not want to risk Two tragedies happening to the same family Oh bello Non capiterò anche a me Stai tranquillin Ah eccolo lì Dai Raymond ripiati in attimo Uuuuuh nooo Si gode E anche male Ti spacco Frost Tu non hai capito nè Isaac Frost Verso Andre Bishop For the heavyweight championship of the world May the best man Tira Iene una adesso Spingilo Ah Ah ma subito Uuuuh Che episodio Beh Ragazzi si sapeva che dovevamo andare contro Frost Prima o poi ma Vediamo quale sarà la challenge Perché in ogni match comunque c'è stata una challenge Non credo che sia un combattimento libero Ecco Credo che ci saranno delle regole da seguire Ehm Vediamo un po' come ci comporteremo In questo match Che sarà davvero difficile Perché quello Con due cartelle Ci butta giù Ti spacco gelatino Pezzo di ghiaccio che non sei altro Ti disintegro proprio Col martelletto Con lo scalpellino Sul tuo cubetto di ghiaccio No questa la potrei evitare Ciao Ciao Sì Ci sono a passo No Ma pezzo di... Prendi ancora per il culo il fratello E vabbè Ti apro comunque Questo qua è un animale Questo qua è un animale Ah Vuole che lo... Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Vogliono che lo faccio stancare Eh sì Diciamo che... Sì perché praticamente Essendo molto palestrato Molto muscoloso Molto pesante Di solito Disintegra subito I suoi avversari E quindi Devo saltellare Praticamente per tutto il ring Cercando di evitare Di farmi buttare all'angolo Vediamo se riesco un attimo A lavorare così Sì no 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 Ok ok Dai 32 Manca poco 20 secondi dai Ah Ah No 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 Dai che stai andando bene Ma non si Ma lui la stamina c'ha Porca merda resisti Abbraccialo Fai qualcosa Mamma mia che culo Che culo Che culo La vedo malissimo Buon lavoro Buono In avanti Indietro Pirla Bravo Così Bravo Schiva Bravo Ok Basta No 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 Andre 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 No No domani No raga ero coperto Com'è possibile Va bene Oh va che culo Eh si Eh si Ti vedo Merda Non ci voleva questa ragazzi Non ci voleva sento che Andre non ce la va più purtroppo Guardate l'energia Guardate La barra sotto Non quella sopra che la stamina Quella sotto Guardate come si abbassa Oh però si sta riprendendo Dai un minuto Andre Mamma mia Un minutino Andre un minuto Andre un minuto Bravo bravo saltella 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 Dall'altra parte dall'altra parte dall'altra parte Saltella 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 dall'altra Non so dove ho già visto fare questa cosa Di saltellare per distrarre l'avversario Deve essere stato un film No Via 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 Resisti Andre bravo Spostati Bravo Quella schivata lì ci ha ridato un po' di Madò che sederino Madò ragazzi Che succede? Ma che ca... Ma che c... Adesso lo devo aprire, forse è stanco in questo momento Lui forse ha sempre battuto tutti dentro i primi due round E quindi averlo fatto arrivare al terzo Può voler dire tantissimo Oh, che cartella, amico Stiamo lavorando praticamente sulla sua stamina, capite? Stiamo lavorando sulla sua stamina Ma lui se mi tira due pugni mi disintegra Quindi è un po' un problema questo Dai, 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 dai Ah Ora Ora Tanto c'è la campana che ci salva qua, ragazzi Gliel'abbiamo date, gliel'abbiamo date 21 21 su 75 È bruttissima sta situazione Ma sbaglio sta iniziando a pararsi Cosa che non faceva prima comunque lui, eh Lui si è mai parato, ragazzi Adesso sembrerebbe In una fase di parata abbastanza buona Si para anche lui Forse inizia a cacarsi in qualche modo Forse Noi continuiamo a guardare la seconda barra quella sotto Quando è piena attacchiamo Attenzione perché siamo a 33 su 75 Il lavoro c'è Ed è anche buono Cerchiamo di reggere adesso Che è importante Reggere No, no, no Via, via, via È una bella sfida però Cazzo non la devo andare via Vediamo Ma una devi allontanarti, Andrea No, così non va Ok No, 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 no Uh, questo era bello Via, via, vai, via Adesso siamo a 42 su 75 Non possiamo lasciarci perdere questa occasione d'oro Siamo arrivati fin qui con tanta fatica E adesso dobbiamo lavorare No, no Via, via, via Adesso, via Uh, che culo Stiamo lì ragazzi perché Ok, ne mancano ancora tanti Però siamo lì, eh Stiamo lottando Eh, bisogna lavorare un attimo Per ritornare su con Con l'energia Perché sennò qua siamo nella cacca più estrema Ok Dai, dai, dai Con calma, dunque Ebbè Continua a prenderle lui Non si ferma più ragazzi Ve lo dico proprio alla grande Non è È un toro Cazzo Cioè non ha stamina Non ha stamina Continua a tirare pugni a caso Anche se noi non siamo vicini E questo è quello che appunto lui sta facendo È tirare pugni a caso Anche se noi non siamo vicini E questo è un bel problema Oh Perché questa cosa mi fai Oh Eh che cacchio Bello Forca merda però Cioè Un attimo di respiro Dammi Prosta Ma ragazzi però era bello se adesso Lo iniziavano a fare indebolire Cioè così è veramente inutile È una macchina e basta Cioè Impulso Se posso Cioè Non ha proprio senso Va 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 E non avevo neanche il rosso Ero coperto E va bene Il gameplay Oh ce l'ha fatta raga Non è credibile questa cosa 26 secondi dai Eh ma come faccio Cioè non ho molta opportunità Di fare bene Cioè adesso lui due punni Mi butta per terra Purtroppo È così Io posso anche provare A saccagnarlo di legnata Attenzione Oh 75 75 Ma che lecce Ma che lecce Ma come faccio Non posso fare altro qua 75 pugni in pancia Ancora mi chiedete robe Dai Andre Forza Ma come protect the cut Cioè è normale Che ora mi disintegra Porca miseria È sicuramente un buon lavoro Di Come si può dire È sicuramente un buon lavoro Per quanto riguarda La resistenza La voglia di Di rimanere in piedi Su ring Però Per me Rimane comunque Un Belle Per carità Poi magari Figata assurda Perché poi se riesci a superare Tutte queste challenge Tutte queste sfide È abbastanza figa Come cosa Però Adesso in questo momento Per me È un Non dico che è un gameplay Palloso Per carità Però Potevo fare mille cose E non E non le sto facendo Questo è poco Ma sicuro E gli ne do un po' Perché è giusto per Però Isaac Non credo sia mai Arrivato a tutti questi round Settimo round Guardate quanti Ne tira a caso Ed è incredibile Che lui Abbia ancora Stamina È questo Che mi Mi fa arrabbiare A me Perché Se devi fare il match Devi farlo bene Cioè anche Tu ti studi La stamina Dell'avversario Però questa Credo che sia La story mod E quindi Ci può stare Anche che vogliano Un attimo Emfatizzare Su determinate situazioni Cioè il taglio Il fatto che Comunque stiamo resistendo Contro uno che Fisicamente Deve stancarsi Prima o poi Secondo me E quindi Ci può stare Assolutamente Che lo facciano Tutto così Il match Anche per farlo Durare tanto Però Continua a pensare Che vedete Lui quanto va a caso Giusto per colpirci E questa cosa qui Secondo me Rovina parecchio Il gameplay Poi Ma tranquillo Vengo io da te Vengo io Merda merda Le corde Le corde dietro No 15 14 6 Andiamo Andiamo in pancia Andiamo in pancia Boom 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 Dai bravo dai Buona resistenza ancora E non ce la fai più Ti stai stancando Ti stai stancando Eh si è stanco morto praticamente Questa è un po' Questa è vero Questa è vero però L'avevamo detto all'inizio Lui è molto pesante E aver fatto 8 round È distrutto Noi abbiamo riposato Abbiamo incassato Siamo più agili E' arrivato il momento Di buttare la terra Anche perché Faticherà a rialzarsi Dai Opla Dai dai ragazzi Ora siamo liberi Di agire Oh Ce la voglia di fare Guarda Oh Oh Ok Che c... Non è mai andato a terra Alzati Frost Dai No ti prego No Sei Che fatica Che fatica Che fatica Che fatica Che fatica Il fratello Il fratello Campione L'ha fregato sul finale Si gode Si gode Che cacchio di serie 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 E' stato qualcosa di figo Ragazzi Ma che vi devo dire Serie strepitosa Noi ci vediamo nelle prossime serie sul canale Lasciate un bel like per questa serie Grazie a tutti Un abbraccio, un bacione Bella, grandissima serie Mi sono divertito un casino Un casino Anche se l'ultimo match è stato veramente difficilissimo però Tanta roba ragazzi Tanta roba Un abbraccio, un bacione E ci vediamo nei prossimi video sul canale Bella Ciao